E' di sei feriti e un arresto, il bilancio della notte di Far West, vissuta dalle tre lungo la Val Sugana tra Bassano e Grigno. Tutto è iniziato a Marostica, all'altezza della rotatoria tra le provinciali 111 e 248. Una Ford C-Max, condotta da un bassanese di 35 anni, operaio residente nel Veronese, non rispetta l'alti imposto dalla pattuglia di carabinieri di Marostica. Inizia un lungo inseguimento. Nei primi 45 minuti il fuggitivo cerca di far perdere le proprie tracce, scorazzando tra Marostica, Bassano e Cartigliano. In aiuto ai carabinieri arrivano i colleghi di Bassano e Rosala, Radiomobile e una volante della polizia. Il 35enne guida a velocità sostenuta, oltre i 140 km orari in zona abitata. Effettua manovre azzardate per tentare di sottrarsi all'inseguimento, arrivando persino a viaggiare ripetutamente contro mano. Diretto verso Trento, il fuggitivo si scontra più volte con le gazzaglie dei carabinieri. La prima volta all'altezza di Cartigliano, poi a Romano Nord e a D'Arsie. Un posto di blocco viene istituito in comune di Grigno. Il 35enne alla vista dei militari non rallenta, colpisce in pieno una gazzella e riprende la corsa. Ma 200 metri dopo perde il controllo dell'auto, sbatte contro il guardrail, procede la fuga imboccando la Valsugana contro mano, fino a terminare la sua folle corsa contro un furgoncino che trasporta prodotti e dolciari. Il 35enne finisce in manette all'ospedale di Borgo Valsugana. Per lui contusioni e una frattura cervicale. Quattro invece i militari feriti, tre in modo lieve e un quarto riporta lesione alla colonna vertebrale. Contuso anche un ranger intervenuto nell'inseguimento. Per il 35enne bassanese risultato poi positivo alla cocaina, oltre alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'accusa è di resistenza e violenza pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.